Avvocato Di Campli, confermato Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Pescara, è già da oggi al lavoro per guardare ai prossimi anni alla crescita del Foro di Pescara? Non ancora, eletto Presidente perché ciò avverrà in occasione della prima seduta del Consiglio. Già al lavoro sì, in questo momento come Presidente uscente, perché i problemi dell'Avvocatura pescarese sono tanti e la fiducia che i colleghi hanno dato alla mia lista ci impone una responsabilità importante. La novità riguarda anche la presenza di tante donne nel nuovo Consiglio. Sì, la presenza delle donne ci sarebbe stata comunque perché la legge lo impone, ma la grande notizia è che le donne sono entrate non utilizzando la quota rosa, quindi c'è stato un consenso verso le candidate donne, tutte anche della lista antagonista e questo denota un nuovo spirito da parte dell'Avvocatura pescarese. Avvocato Di Campli, lei diceva già al lavoro come Presidente uscente, il primo nodo, probabilmente il più importante riguarda quello del Tar di Pescara, state lavorando per scongiurare questa chiusura? Sì, noi stiamo dando il nostro contributo per evitare che un importante presidio di legalità sul territorio, un ufficio giudiziario di eccellenza, qual è la sezione staccata del Tar di Pescara, possa andare via. Lo abbiamo già fatto l'anno scorso con una settimana di astensione dalle udienze, stiamo lavorando di concerto con i parlamentari abruzzesi per evitare questo. è stato presentato un emendamento al decreto 1000 proroghe, proprio per ottenere un ulteriore differimento di questa paventata chiusura, ma nel contempo stiamo lavorando anche per la conservazione sine die del Tar di Pescara.